Buongiorno a tutti, siamo pronti, siamo in pole position, anticipiamo già alcuni temi. A parte gli scherzi, buongiorno a tutti, sono Luca Tagotta, sono un giornalista, sono influencer del settore automotive e sono stato chiamato qua, vi ringrazio per moderare questa tavola rotonda che ovviamente parlerà di mobilità sostenibile, i mobility. Per farlo abbiamo un parterre molto vario che ci permetterà anche di trattare argomenti molto differenti, vi inizio ovviamente a presentare quelle che saranno le persone che saranno chiamate a svelarci tutti i segreti di questa nuova mobilità sostenibile del 2021, partiamo da Chiara Guscelli che è la padrona di casa, manager degli village, poi sarà il turno di Gabriele Catacchio che comunque è a capo del reparto comunicazione degli mobility, come vedete sono molto sostenibile perché un foglio solo e non due per stampare il programma, visto? Poi sarà il turno di Mauro Di Benedetto che ci parlerà di un'esperienza molto particolare che è quella di un'azienda denominata Chiri che ha ovviamente una connessione con il gruppo Stellantis, a seguire Emanuele Pesando di Free to Move e Solutions per chiudere poi con Lorenzo Forneris che è il segretario provinciale dell'UNASCA che è un'associazione di categoria, poi ci racconterai che cosa fa l'UNASCA nel dettaglio e perché siamo qui. Ti passo subito la parola a Chiara per un saluto di benvenuto e per insomma introdurre questa tavola rotonda. Grazie, grazie Luca, benvenuti a tutti e benvenuti in Green P. Green P è un centro commerciale, ci troviamo all'interno dell'E Village che è una concessionaria ma entrambi sono molto di più, sono in realtà un progetto, un progetto che nasce da un'idea fondamentale che è quella di avere l'ambizione di riuscire a cambiare la modalità di consumo, cioè di consumare in maniera sostenibile e responsabile verso le persone e verso il pianeta. All'interno di Green P siamo più di cento aziende che credono in questo progetto, che credono che questo sia il modo per traghettarci verso il futuro e noi come Stellantis che siamo il quarto gruppo al mondo dell'automotive, leader mondiali della mobilità sostenibile, ovviamente non potevamo che non essere qui. Quindi sono molto orgogliosa, anzi come dice Oscar Farinetti non bisogna essere orgogliosi perché non siamo noi che abbiamo deciso di nascere in questa parte del mondo e di lavorare in questa parte del mondo, dobbiamo essere riconoscenti. Quindi sono riconoscente di avervi oggi qua ospiti, insieme a colleghi ed amici con cui condividiamo il progetto e niente, diamo il via a questo talk show. L'associazione è totalmente casuale quella di Farinetti. Assolutamente. La domanda che ti faccio io è, siamo a Torino, la città di Torino insomma per il mondo dell'automotive soprattutto di matrice italiana ha sempre rappresentato l'eccellenza. Aprire i village all'interno di un building che parla di sostenibilità a Torino, che cosa vuol dire, che cosa rappresenta per Stellano? Allora, Torino già quando noi avevamo ancora il vestito FCA aveva l'ambizione, aveva iniziato a pensare ad un futuro. A me piace di più FCA. FCA? Sì, fa un po' più roba nostra, no? Fa un po' più roba nostra. FCA. Va bene, FCA. Aveva già iniziato a pensare ad un futuro e ad un'eccellenza. Torino oggi per noi ad esempio è un polo eccellente per quanto riguarda ad esempio l'elettrificazione. Oggi come Stellantis lo è ancora di più. Vogliamo parlare di prodotti? A Torino e a Torino che produciamo le nostre vetture elettriche. Pensiamo alla 500, pensiamo alla Maserati elettrica e ibrida. Torino anche per quanto riguarda i servizi, perché oggi la mobilità non è soltanto più vendere l'automobile, ma è vendere i servizi. E a Torino abbiamo il più grande vehicle to grid al mondo. Oltre 700 vetture collegate. Non so se tutti sapete cos'è un vehicle to grid. Sostanzialmente comprare un'automobile, avere un'automobile elettrica. Non vuol dire soltanto appunto mobilità, ma vuol dire poter utilizzare anche le batterie, collegarle alla rete elettrica nazionale o privata e poterle utilizzare come sia utilizzarle sia in caso di necessità di energia oppure sia in caso di eccessiva produzione di energia come accumulatori. Quindi Torino è veramente un polo strategico anche per Stellantis. E se io ti dico lingotto, pista? Lingotto, ovviamente. Siamo qua. Oggi il lingotto è la protagonista della giornata e come gruppo stiamo lavorando alla pista, quindi al tetto del lingotto per fare un regalo alla città di Torino. Diventerà il più grande in senso proprio di amplezza, di dimensione e più alto parco al mondo dove potranno andare tutti i torinesi a fare jogging oppure a salire con le loro vetture elettriche. Faccio un passo indietro. L'unione tra Green P e Lee Village risponde di fatto a quelli che sono un po' i valori dell'azienda che già si porta avanti da quando si chiamava FCA. Piace? Piace, piace. Beh, i valori. Allora, i valori comunque ci accomunano. Prima abbiamo parlato di queste 100 aziende. L'idea è quella di cambiare la modalità di consumare, ma è anche molto importante la produzione. Noi nei nostri stabilimenti produttivi siamo assolutamente in linea attenti all'ottimizzazione dell'energia, a un utilizzo consapevole ad esempio dell'acqua e a uno smaltimento corretto dei rifiuti. Quindi i valori praticamente sono gli stessi, assolutamente. E se non l'avete ancora fatto io vi invito a fare un giro dopo nel Lee Village perché potrete anche imparare molte cose e insomma possiamo dire che c'è una Jeep divisa in due praticamente che non è in vendita, sia ben chiaro, però serve all'altro. Eh sì, perché qui, come abbiamo già avuto occasione anche di dire prima in un'intervista che vedrete online, abbiamo un po' l'ambizione di fare formazione, di confrontarci, di fare tavole rotonde eccetera. Ed è la prima volta che rendiamo fruibile al pubblico ad esempio un prototipo. È la prima volta che abbiamo un prototipo del nostro centro stile, che è sempre stata un po' la cattedrale della nostra azienda, abbiamo la 120. La 120 è un prototipo che è stato lanciato nel 2019 a Ginevra ed è però la vera auto del futuro, senza più cavo per la ricarica elettrica ma le batterie intercambiabili, un po' più grandi forse ma ci arriveremo, è la guida autonoma. E come dicevi tu la Jeep, la Jeep sezionata perché come dicevo prima noi siamo una concessionaria, siamo lo showroom del Mirafiori Motor Village e appena sono uscite le vetture ibride ed elettriche ovviamente i nostri clienti, ma immagino anche tutti voi, avevano la massima curiosità di sapere ma quanto è grande la batteria, dove è posizionata, come funziona, dove passa la benzina. E quindi abbiamo anche questa Jeep che ci aiuta a fare education. Grazie Chiara. Grazie a te. Se la regia mi proietta una slide che avevo chiesto come apertura diciamo di questo talk, se no ve la descrivo io tranquillamente. Eccola qua. Ok allora per chi non lo sapesse questi sono i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile che non sono state redatte dal sottoscritto neanche da Chiara e nessuno degli istanti anche perché sono stati fatti nel 2015 ed è ovviamente un'agenda che ha portato avanti e che tende a portare avanti ancora oggi ovviamente l'ONU, quindi l'Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite per provare a sconfiggere questi problemi o provare a rendere questi obiettivi accessibili a tutti quanti. Noi siamo qui, ovviamente non possiamo ovviamente raggiungerli tutti quanti, non sarebbe impensabile una cosa del genere, ma questo ci può aiutare per capire anche quello che è il momento attuale della mobilità perché alcuni punti ovviamente sono focali per il settore dell'automotive. Penso banalmente al consumo e alle produzioni responsabili perché ovviamente c'è tutta una catena produttiva dietro che deve tendere ad essere sempre più possibile sostenibile, lotta al cambiamento climatico forse fin troppo scontato da raccontare questo, cercare di abbassare se non azzerare, cosa abbastanza difficile questa, però si può tentare di farlo, le emissioni nocive. E ovviamente tutto questo ha portato le aziende come Stellantis ma ovviamente anche i vari competitor che esistono sul mercato a cambiare, cambiare e provare a portare avanti dei valori differenti, valori che ovviamente si concentrano principalmente sulla produzione di veicoli il più possibile sostenibili, veicoli ibridi, veicoli elettrici, veicoli a idrogeno perché c'è anche chi utilizza l'idrogeno ad esempio, insomma c'è una varietà di, ci sono una varietà di soluzioni possibili o ancora in fase di sviluppo che ci accompagneranno probabilmente da qui ai prossimi 5-10 anni. Alcune aziende addirittura utilizzano anche un raggio molto più corto però molto probabilmente il mercato non sarà così pronto in meno di 5-10 anni. Questi obiettivi ovviamente si uniscono a quella che è la realtà del mercato e la rivoluzione del settore porta ovviamente anche come conseguenza quella di cercare di raggiungere i suddetti obiettivi per il bene comune, non è che un domani oggi si sveglia a Stellantis e dice facciamo l'auto elettrica, no, dietro c'è uno studio e c'è ovviamente anche un dover rispondere a linee guida date ovviamente dall'Unione Europea a direttive più alte di noi insomma come emanazione ma soprattutto dei valori, dei valori, dei pensieri che ci stanno dietro perché di fatto è inutile che ci giriamo intorno di mondo, di fatto ne abbiamo uno. Quindi se cerchiamo di renderlo il più sostenibile possibile forse potremmo utilizzarlo anche in forma migliore e quindi benvenga un building come Green Pea portatore di una serie di valori, benvengano delle tavole rotonde dove la mobilità sostenibile è al centro ma io andrei oltre perché oggi non parleremo soltanto di mobilità sostenibile to cure ma affronteremo alcuni problemi che sono legati alla stessa mobilità sostenibile come quelli della formazione che un po' abbiamo già iniziato a sondare, quello delle infrastrutture che è un altro grande tema purtroppo di discussione oggi e quello ovviamente del cambiamento mentale da portare nelle persone per far sì che utilizzino il tutto in modo differente. Io passerei la parola a Gabriele adesso al quale io avrei affidato uno degli obiettivi, l'obiettivo numero 13 che voi non potete vedere perché è alle spalle di Chiara, no no ma stai pure, potremmo mica far alzare l'unica donna qui presente, dai lasciamo la vita, andiamo sulla fiducia, andiamo sulla fiducia. L'obiettivo numero 13 è far vincere lo scudetto, ah no scusate ho sbagliato, è lotta contro il cambiamento climatico. Perché questo? Perché ormai c'è urgenza di dover adottare delle misure per contrastare ovviamente il cambiamento climatico e che cosa fa in questo quadro Stellantis per poter raggiungere questo obiettivo? Gabriele. Allora intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora vorrei dire una cosa, l'obiettivo 13 ogni tanto si legge agire per il clima, che a noi devo dire piace di più perché noi quello che abbiamo cercato di fare era proprio agire per fare qualcosa di concreto. Faccio cambiare? Chiamolo? Va bene così, va bene, piaceva anche l'altro obiettivo che hai citato un attimo che ho sentito. Ti piaceva eh? Lo sapevo, l'ho detto appunto. Ecco cosa abbiamo fatto prima come FCA e adesso come Stellantis? Abbiamo creato un team dedicato appunto a team immobili di cui faccio parte, nato due anni fa, che aveva lo scopo di supportare il lancio delle vetture elettriche ed ibride. Cosa vuol dire supportare? Allora diciamo che noi come Stellantis facciamo macchine da un secolo, se non di più, quindi c'è chi sa disegnarle. Tu no però. Io no, io no, assolutamente. C'è chi sa disegnarle. Ti riportavi benissimo però. Grazie, grazie. Appunto c'è chi le disegna, c'è chi le industrializza, c'è chi le produce, mancava però magari un supporto per comunicarle al meglio, per supportarle dare una risposta a tutte quelle domande che due anni fa, ma a volte anche adesso ci sentiamo appunto fare, relative a concetti banali, come si ricarica la vettura a casa, dove sono le colonnine, costa di più perché, costa di meno, quali sono i vantaggi. Quindi per rispondere a tutta una serie di domande e creare quell'ecosistema di servizi attorno al cliente che permettesse la diffusione della vettura elettrificata, è nato questo team immobili di, è nato con FCA e adesso con Stellantis, ci siamo allargati, siamo più grandi, quindi il team è rimasto, anzi ha assunto una nuova anima che è un'anima global. Questo è il segno evidente del cambiamento di passo, quello che dicevo prima, del dover cercare delle forme alternative, perché se si viene a creare addirittura un team dedicato all'e-mobility, vuol dire che c'è davvero tanto da fare ancora. Assolutamente, più che altro c'è tanto anche da comunicare, se vogliamo ci sono dei falsi miti che dicono ma la vettura elettrica è un problema, è un vincolo, no, spesso è un'opportunità, banalmente lo stile di guida con la vettura elettrica è più piacevole, il TCO, si sente tanto questa parola che sembra una parolacea, trattamento sanitario obbligatorio a volte, total cost of ownership, cioè quanto costa la vettura lungo il suo ciclo vita in termini di consumo di carburante, di energia elettrica, di manutenzione, ebbene l'elettrificazione può essere un'opportunità anche per ridurre questi costi, però deve essere conosciuta. Ma io come faccio a dirlo a mio nonno? Cioè per dire, mio nonno ha 70 anni e mi dice ma la macchina elettrica, ma tu fai 30 km e cosa devi fare? Come tuo smartphone devi ricaricarla poi? Cioè come faccio a farglielo capire che non è così? Ma guarda, noi abbiamo provato in tutti i modi, devo dire che un metodo che sta avendo successo è realizzare un'app, anche mio nonno ha lo smartphone, lo usa forse più di me, abbiamo creato un'app che simula l'utilizzo della vettura elettrica, quindi tu sali sulla tua auto oppure dal divano in periodo di covid, puoi farlo, attivi l'app e simuli l'utilizzo della vettura, scopri quanto risparmi, quanti chilometri puoi fare, e c'è anche una sezione di FAQ dove vengono risposte tutte le domande tipiche sull'elettrificazione. Un'altra domanda che ti faccio, perché devo essere un po' l'avvocato del diavolo io, devo mettermi nei gruppanni, ma l'elettrico costa però? Allora come dicevo prima, costa e il costo si... Oggi sono cattivo. E questa è una domanda cattiva, però allora la risposta è che al momento costa perché il costo è dovuto alla batteria. Consideriamo che più o meno il costo al kilowattora si aggira su, ci sono vari dati, ma più o meno su 200 euro al kilowattora. Per dare un esempio molto semplice, un kilowattora ti permette di fare più o meno 10 chilometri, capiamo come una vettura che deve fare 500 chilometri di autonomia e facciamo in fretta il calcolo. Però le statistiche dicono che questo costo sta scendendo e sicuramente sarà uno dei modi per rendere più democratica la vettura elettrica. Detto questo ci sono anche metodi alternativi, appunti finanziamenti, il fatto di applicare le vetture elettriche anche al car sharing. Sembra una banalità, ma vediamo all'ingresso proprio dell'e-village la vettura di Lisisgo. Ebbene, un servizio di auto completamente elettrica, la nostra 500, disponibile a Torino, Milano e Roma, che permette a tutti di accedere a una vettura elettrica a 29 centesimi al minuto. Abbiamo parlato con dei ragazzi in un evento fatto qui appunto a Casa di Chiara e lo usavamo tutti. Casa di Chiara? In senso qua? Ah ok, sì, qua in questa sala. Andiamo, eh. In questa sala e i ragazzi lo usano. Lo usano perché è semplice, perché basta un app per trovare la vettura e con pochi centesimi al minuto vai ovunque a zero emissioni. I ragazzi sono attenti a questo, più di noi. Assolutamente. Prima parlavi dei contributi, Chiara facevi l'esempio prima, no? Fuori dalla sala che un utente qualche tempo fa ha portato via una 500 addirittura. Sì, una 500 elettrica a quasi 10.000 euro, perché sommando i contributi nazionali più i contributi regionali, che prevedevano, hanno una forbice tra i 2.500 e i 10.000 euro, avendo avuto accesso ai 10.000 euro, ovviamente è riuscito ad avere una vettura elettrica a quella cifra. Però il tema del noleggio a breve termine, a lungo termine, il car sharing, sono anche un modo per democratizzare la vettura elettrica. Perché ormai è evidente il passaggio dal possedere al condividere, nato banalmente con i vari car sharing locali, quindi direi quasi comunali, nel senso non tanto di possesso da parte del comune, ma quanto di dislocazione comunale, che poi sono diventati un esempio che si è diffuso a macchia d'olio, insomma, anche se non in modo costante su tutto il territorio nazionale. Gabriele, quando verrà democratizzato l'elettrico? Quando potrò comprarmi un SUV elettrico a 20.000 euro? Allora, qui voglio citare... Forse è esagerato. Eh, lì un po' sì. Un pego sì. Ma guarda, cito la frase che ha detto Olivier François, il CEO del brand Fiat, all'Evidei l'8 luglio. Ha detto una frase a me molto bella, it's only green when it's green for all. E si è fatto la domanda e si è dato la risposta, nel senso chiedeva ma quando è che noi come Fiat, parlando di Fiat, switcheremo in full electric? E la risposta è stata tra il 2025 e il 2030 quando potremo offrire la stessa vettura allo stesso prezzo del termico. Quindi è una finestra temporale vicina, anche perché dobbiamo andare incontro a quello che ha detto l'Unione Europea poche settimane fa, il piano è chiaro, Fit for 55, il che vuol dire meno il 55% di emissioni di CO2 da qui al 2030. E la cosa interessante è che anche gli Stati Uniti, che sappiamo le amministrazioni precedenti non erano tanto attenti al tema dell'elettrificazione, del rispetto ambientale, Biden ha dichiarato anche lui meno il 52% di emissioni da qui al 2030. Quindi capiamo come un movimento che sta diventando globale e quindi l'elettrico va democratizzato. Pensavo Trump invece di Biden, vabbè, lasciamo perdere. Prima hai detto che comunque si prova a strizzare l'occhiolino anche ai giovani, perché oggettivamente i giovani saranno gli acquirenti del domani se non del prossimo futuro. Torino, Stellantis, ci sono dei progetti che sono nati e che si sono sviluppati, soprattutto penso a quello Politecnico di Torino. Sì, ma allora diciamo che noi in questi ultimi due anni siamo entrati in contatto con quasi 15.000 giovani, con attività di vario tipo, tramite anche Unasca con cui poi lasceremo raccontare il progetto, ma è stato un progetto molto importante per noi, comunque con attività di vario tipo. L'obiettivo è duplice, da un lato ricevere degli input dai ragazzi, non tanto sull'auto ma sulla mobilità del futuro. E quindi con attività che noi chiamiamo hackathon challenge, le abbiamo sfidati, lanciandogli delle sfide, e loro ci hanno dato degli input interessanti su come vedono l'auto del futuro. Ad esempio l'app che ti dicevo prima è nata da una considerazione banale. Citiamola, citiamola se vuoi. Sì, è scaricata, è gratuita. Fiat Goi Live, c'è anche quella di Jeep. I ragazzi ci dicevano che l'auto elettrica non l'abbiamo mai provata, quindi non sappiamo dire se è più bella, più brutta. Allora da lì è venuta l'idea di realizzare un'app. Olpa anche dell'autoscuola. Vabbè, questo ne parliamo dopo. E poi d'altro canto invece abbiamo realizzato delle attività che vanno nell'altro senso, cioè quello di informare i giovani su cosa vuol dire mobilità elettrica, mobilità sostenibile, e l'abbiamo fatto con dei webinar, tanto di moda adesso, che però non è stato banale, in un periodo di Covid avevamo tutta una serie di attività col Politecnico di Torino, con l'Università Bocconi, con associazioni studentesche internazionali organizzate in presenza. abbiamo dovuto appunto trovare un modo per farle da remoto e devo dire è funzionato. Qui appunto in questa sala abbiamo fatto diverse attività, coinvolgendo i giovani, con feedback positivi. Penso che questo sia il mio modestissimo parere. Io ovviamente non sono esperto come loro, io guardo più che altro quello che accade. Penso che davvero possa essere l'obiettivo primario, quello di comprendere che cosa vuole la massa. E per la massa io intendo da una parte i giovani, perché saranno gli acquirenti di domani, ma soprattutto gli acquirenti di oggi, quindi trentenni, quarantenni, cinquantenni. Cioè capire le esigenze delle persone di oggi. Sì, e poi è stato anche interessante vedere come la sensibilità dei giovani verso l'elettrico, il rispetto appunto dell'ambiente, sia più forte magari di quella delle generazioni precedenti. E il fatto che loro possano anche sensibilizzare i genitori, i parenti, verso questa transizione che magari nella mente di chi è più grande è un po' più difficile. Chi parte da un foglio bianco, la prima vettura è una vettura elettrica, risulta una normalità, un po' come lo smartphone anziché il Nokia di 15 anni fa. Alla tua sinistra c'è Mauro, che ci parlerà di Kiri. Senza entrare troppo nel dettaglio ti chiedo semplicemente come è nata questa idea, visto che comunque banalmente è un modo anche per provare a far cambiare le abitudini di vita delle persone. Allora l'idea è nata dalla volontà di nuovo di democratizzare l'elettrico, quindi noi pensavamo perché non remunerare l'utilizzo della vettura elettrica con qualcosa. Poi non sapevamo con cosa, pensavamo a una moneta, qualche forma diciamo di reward. Un bonamento per il Milan, di nuovo. Sì, bravissimo. E poi dalla volontà anche di creare una community, cioè una community di persone attenti all'ambiente. Poi appunto abbiamo conosciuto Mauro e la sua start-up e da lì è iniziato un percorso che è tuttora diciamo in una fase importante di questo sviluppo ma che continuerà da qui in avanti. Prima di dare la parola a Mauro, la domanda delle domande, proprio di quelle difficili, il tuo sogno per il futuro del mondo automotive qual è? Ma allora il sogno è brutto da dire, però che non ci sia più bisogno di un team immobility per supportare il lancio delle vetture elettrici. Ti stai licenziando praticamente. Cioè deve diventare qualcosa insito nella ricerca di una nuova vettura da parte delle persone, quindi che non debba essere più visto come una chimera ma che sia la scelta naturale delle persone. È incredibile, non avevo mai visto nessuno che si stava licenziando in diretta. Questa è la prima volta che mi capita. No, non me l'aspettavo. Mauro Di Benedetto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno e grazie per l'invito. Ci parli di Kiri. Kiri, che cos'è? Com'è nata questa partnership, questa unione? Etichettala tu come è giusto che sia con il mondo stellante. Allora, Kiri, che cos'è? Kiri è una missione sotto forma di azienda, diciamo l'unica forma in cui questa missione secondo noi può prendere vita, può diventare reale. È la missione di sconfiggere il cambiamento climatico o quantomeno di invertire il trend con un approccio molto molto chiaro che è l'approccio di accelerare l'adozione di comportamenti sostenibili. Quindi già da questo si capisce dove noi ci stiamo posizionando. sul tema del consumo, sul tema del consumatore, sul tema della domanda. Per anni, quando si parla di sostenibilità, ci si è focalizzati anche giustamente sul lato dell'offerta, sull'offrire prodotti e servizi sostenibili o comunque con livelli di emissione minori rispetto ai precedenti. Questo cambiamento da un lato, come tutti sappiamo, è dovuto a spinte del regulator, ma dall'altro fortunatamente sempre di più si sta vedendo che è dovuto all'arrivo di una domanda. L'arrivo di una domanda di prodotti e servizi sostenibili. Ecco, quello che Kiri vuole fare è incentivare questa domanda, stimolare questa domanda. Con un approccio molto chiaro, anzi con una mission molto chiara, quello di rivoluzionare l'approccio alla sostenibilità. Approccio alla sostenibilità che oggi, secondo noi, è un approccio obsoleto. E di cosa si tratta? Si tratta dell'approccio semplicemente di proibire, punire, limitare comportamenti non sostenibili. Faccio due esempi proprio lì. Uno, diciamo, non guidare l'auto a diesel nel centro città nel weekend. Quanti di voi hanno l'auto a diesel? La usano nel centro... Vabbè, non alzano, non ha paura. Fai la raccolta differenziata o ti facciamo la multa. Questi qua sono messaggi corretti, attenzione, non voglio dire che sono messaggi sbagliati. Sono messaggi che però, quando bisogna, diciamo, devono arrivare alle grandi masse della popolazione, quando devono arrivare a mia zia, cioè al consumatore medio, al cittadino medio... La famosa casalinga di Voghera. Esatto, la famosa casalinga di Voghera. Mai conosciuta nella casalinga di Voghera, se ce n'avete qualcuna qui presente, che si palesi, così almeno ne etichettiamo bene. Quando bisogna passare questi messaggi alle grandi masse, la storia ci insegna che gli approcci proibizionisti non hanno mai funzionato. Allora, quello che Kiri vuole fare, Kiri vuole rivoluzionare completamente questo approccio e fondarlo sull'incentivo, su quello che è un po' il positive reinforcement, quindi il rinforzo positivo. Come funziona Kiri nella pratica? Tu, consumatore, fai dei comportamenti sostenibili nella tua vita quotidiana. Guidare veicoli elettrici, scegliere forme di consumo sostenibili nel tuo supermercato preferito, nel tuo negozio di moda preferito, scegliere fonti di energia rinnovabili per casa tua, per ricaricare il tuo veicolo, e così via. Per la CO2 che tu risparmi, guadagni quello che ne abbiamo chiamato il Kiri coin. Faccio un disclaimer grande quanto una casa, non è una criptovaluta, ma è un asset digitale. In questi periodi hai fatto bene a fare il disclaimer. No, no, ma meglio dirle prima le cose, anticipare. Cosa vuol dire? Che ha tutti quegli aspetti positivi che le cripto hanno, perché non bisogna nemmeno demonizzarle, la sicurezza, la trasparenza, eccetera, eccetera, senza avere determinati aspetti che sono potenzialmente critici, vedi, un po' la volatilità. Dove lo spendo questo Kiri coin? Lo spendo sul Kiri marketplace, che è questo nostro marketplace, appunto, dove con più di 300... Mercato digitale. Mercato digitale, con più di 350 brand sostenibili in varie categorie, fashion, beauty, food, large consumer good, eccetera, dove, appunto, l'obiettivo è quello di dare al nostro utente la possibilità di ricevere qualcosa in cambio. Quindi questo è veramente in un... diciamo, in pillola, in una pillola quello che noi facciamo. Constellantis. Constellantis, secondo noi, è stato un po' quasi un matrimonio naturale. Stiamo parlando del gruppo... Sì, possiamo dire tranquillamente del gruppo che oggi nel mondo è forse tra i più avanzati, se non il più avanzato, sul tema della mobilità sostenibile. Possiamo dirlo, Chiara? Possiamo dirlo. Quindi, per noi è stato un po' un... Devo dire che, diciamo, è stato, non voglio dire facile, ma abbiamo avuto delle orecchie che erano molto attente ad ascoltarci. Questo è molto importante per un'azienda che nasce, appunto, con un'idea. E questo è stato fondamentale e ha dimostrato, dimostra, e mi auguro dimostrerà nei prossimi mesi, quella che è, appunto, la visione di questo gruppo quando si parla di sviluppo della mobilità sostenibile. Io avevo etichettato, insomma, il tuo intervento con l'obiettivo dell'agenda ONU numero 12, che era il consumo e produzione responsabile, perché di fatto tendiamo a questo, anche se forse nell'agenda ONU è etichettato in modo differente, però creiamo anche dei nuovi metodi di consumo, di fatto. Ma sai, allora, consumo e produzione vanno a braccetto. Dicevamo prima, la produzione tendenzialmente dovrebbe venire prima, perché se non c'è il prodotto, se non c'è il prodotto sostenibile, non è cosa consumare. Però, automaticamente, molte aziende devono avere anche una spinta a, diciamo, fare questa transizione green, a andare verso logiche di produzione sostenibili. E qual è la miglior spinta, se non quella della domanda, se non quella della volontà dei clienti nel comprare prodotti e servizi sostenibili? Ora, come facciamo a creare questa spinta? Ci sono due elementi che vanno a braccetto. Uno è l'education. Uno è educare il consumatore in maniera propositiva su quelli che sono i vantaggi di essere sostenibili. Attenzione, per anni si è parlato di quelli che sono i rischi e i pericoli di un mondo non sostenibile, che per carità, va benissimo, è giusto anche, diciamo, averli chiari. Secondo noi è altrettanto giusto mettere il focus, mettere la lente di ingradimento su quelli che sono i vantaggi di un pianeta sostenibile. Dall'altro elemento è l'elemento della convenienza. Come diceva Gabriele, giustamente è normale, è naturale che dei prodotti che inizialmente hanno dei processi di produzione, dei materiali leggermente più costosi, poi possano venire proposti nel mercato a dei prezzi un pochino più alti. Ecco, i governi giocano la loro parte con tutto il tema degli incentivi. Noi, nel nostro piccolo, speriamo tanto grande nel prossimo futuro, vogliamo giocare la nostra partita, la partita di rendere la sostenibilità più conveniente e più accessibile. Grazie Mauro. Quindi adesso uscite, andate a comprare la 500 elettrica da Chiara, che poi... Eh, non si può. Assolutamente. Che poi vi passerà... Anzi, tu che volevi il SUV da oggi abbiamo il Wrangler PICV da provare. Dopo quella a metà però, la Jeep a metà. Che poi vi porterà da Gabriele che vi spiegherà tutti i vantaggi della mobilità elettrica, con Kiri ci guadagnate pure e poi subentra ovviamente sia così free to move e solutions per tutti i servizi connessi ovviamente all'acquisto di una vettura sostenibile. Emanuele, per te, Emanuele pesando, avevo utilizzato l'obiettivo numero 9 dell'agenda ONU che era imprese, innovazione e infrastrutture, perché di fatto noi siamo... Noi, voi, io no, però le aziende interpreti di questo mercato sono chiamate anche a cercare di costruire un'infrastruttura che possa rendere accessibile un mondo elettrico. Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie Chiara per l'ospitalità. Assolutamente, nel senso che è stato dato questo obiettivo dall'ONU sulle imprese perché le imprese devono essere leader nel portare l'elettrificazione verso tutti noi, sia verso i dipendenti ma anche verso l'esterno. Devono farsi un po' da esempio e nel far questo devono anche pensare un po' al futuro, cioè innovare. Non è semplicemente andare a mettere la colonnina ma è creare anche all'interno dell'azienda ma anche all'esterno una serie di servizi, una serie di prodotti che siano integrati tra loro e quanto più digitale per evitare carta perché se no andiamo a bucare un altro di quegli obiettivi per appunto incentivare fronte e retro fronte e retro e già quel foglio in più per andare a incentivare assolutamente l'adozione delle vetture elettrificate. Questo perché non dirò nulla di brutto nel dirvi che l'ufficio l'azienda è la nostra seconda casa. Passiamo molto tempo in ufficio quindi il fatto di poter accedere tramite la nostra azienda l'ufficio a una serie di servizi per la nostra vettura elettrica fa sì che viviamo con tranquillità questa transizione che ad oggi vediamo un po' con un po' di paura senza necessità comunque. Il tuo obiettivo quando arriva l'acquirente ho fatto ovviamente la scenetta prima però ovviamente la catena di congiunzione è palese è quello di far precipitare insomma di far togliere dalla mente delle persone tutti i dubbi oddio rimango senza ricarica oddio come faccio a caricare a casa oddio dove faccio come ricarico c'è un abbonamento da prendere una tessera ci sono una serie di motivazioni che ci spingono poi a vedere effettivamente come lavora un'azienda come Free to Move i soluzioni ma non solo sì esattamente nel senso che il primo step ovviamente è provare la vettura vedere come va è effettivamente un altro modo di guidare quindi vi invito tutti a provare una vettura elettrica perché è veramente straordinario dopo che hai provato questa emozione cavolo quanto è bella quanto mi piace però 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 il nostro ruolo e noi nasciamo dall'emanazione del team mobility in FCA o FCA come preferisci è proprio quello di andare a prendere queste preoccupazioni queste paure e farle far passare come opportunità cioè devono diventare opportunità il fatto di avere una serie di servizi dedicati alla ricarica come i nostri pacchetti Oli il fatto di poter accedere tranquillamente con totale comfort a casa alla ricarica tramite l'installazione di una wallbox la nostra easy wallbox fa sì che tu possa vivere la vettura elettrica come deve essere vissuta cioè con comfort silenziosità piacere di guida anche per voi immagino sia stato fondamentale prima di partire fare un'analisi di quelle che sono le necessità delle persone come fatto per gli altri assolutamente sì noi siamo partiti in realtà nel capire quali potevano essere i luoghi dove il cliente lascia di più la vettura perché poi dove la vettura è ferma e dove la vettura deve essere caricata un po' come facciamo oggi con il nostro smartphone ormai sempre più in aeroporto in ufficio a casa appena possiamo smartphone in carica lo stesso lo ha fatto con la vettura non perché la vettura abbia poco range o pochi chilometri anzi ne ha più che sufficienza per tutti ve lo sicuro ma è un modo di vivere diversamente la mobilità ovviamente siamo partiti da quello quindi nel capire queste cose qua ci siamo resi conto che una gran parte di questo tempo la si passa appunto in ufficio o presso la propria impresa quindi qui ci siamo mossi per capire quali potevano essere servizi o prodotti da offrire alle imprese per riuscire a dare questa possibilità ai propri dipendenti e ci siamo usciti con una serie di servizi anche molto interessanti anche per riuscire a rimborsare quelli che sono i costi dell'elettricità al cliente al dipendente se necessario e una serie di servizi tra cui ad esempio nominato prima velco to grid sarà sicuramente una di quelle cose che cambierà in modo di vedere l'elettrificazione per le imprese e per anche le persone normali nel senso che trasformerà tutto in una grande opportunità e non un cosa sta succedendo diciamo e poi banalmente noi parliamo di queste cose ma di fatto tutto è gestibile da uno degli oggetti che è di fatto il prolungamento del nostro braccio cioè lo smartphone assolutamente ormai praticamente è diventato a parte del nostro corpo c'è perfino chi utilizza il telefono quindi sì è corretto ormai la digitalizzazione ha riempito tutti i nostri spazi e va benissimo nel senso che tutti i servizi di cui stiamo parlando la vettura elettrica di per sé è una vettura digitale lasciatemi passare il termine sempre connessa le nostre wallbox tutti i servizi di cui vi ho parlato prima sono servizi connessi accessibili attraverso il telefono questo fa sì che si vada incontro a quell'esigenza di semplificare la vita al cliente quindi andare ad aiutare a vantaggiare il cliente della vettura elettrica e questa è una bellissima cosa che ci aiuta molto anche a noi ad entrare in contatto col cliente non è più compro un prodotto mi compro una vettura e basta ma accedo a un servizio compro una vettura elettrica ma accedo a un mondo di servizi tutti nella tasca dei miei pantaloni o eventualmente nel navigatore di vettura ti chiedo un'ultima cosa se ci fai un approfondimento su una due soprattutto partnership recenti che sono state instaurate una con Accenture e una con Arcese lo dico perché soprattutto quella con Arcese secondo me spesso si parla troppo poco della logistica della movimentazione pesante insomma camion giusto per fare degli esempi molto più chiari ecco sembra che loro non debbano essere intaccati no? mentre anche qui c'è invece uno studio uno sviluppo incredibile ci sono delle aziende che hanno addirittura elettrificato parte della Brebemi giusto per fare un esempio senza voler citare l'azienda però si sta davvero andando avanti anche da questo punto di vista le due partnership con Accenture e Arcese sono un segno anche di una volontà di innovare dei settori che spesso magari sono sottovalutati invece sono di estrema importanza anche perché ve lo ricordo nel 2020 noi eravamo tutti chiusi in casa e gli unici che portavano cibo e medicinali erano comunque i camion in giro assolutamente sì questo è un altro bel esempio ti ringrazio per averlo nominato perché qua parliamo papà camionista parliamo sempre di imprese e le pensiamo come possono essere le imprese che hanno i dipendenti in ufficio ci sono anche tutta una serie di imprese di cui il lavoro è la mobilità o la logistica e queste imprese appunto hanno bisogno di andare a infrastrutturare vogliono andare a infrastrutturare per elettrificare e per diciamo spingere ancora di più questa sostenibilità noi con Arcesa abbiamo iniziato un bel progetto perché essenzialmente andremo insieme a ridisegnare quelli che sono gli hub logistici per renderli un punto di ritrovo quindi non solo andiamo verso la sostenibilità ma andiamo anche a creare un luogo dove le persone possono incontrarsi non è più una zona di periferia dove vanno i camion a rifornirsi ma è un luogo dove io posso andare a ricaricare la mia auto posso prendermi qualcosa con gli amici e poi anche c'è quella parte lì quindi è un bel progetto anche di riqualificazione se vogliamo vedere invece con Accenture ci siamo essenzialmente resi conto che ci serviva delle competenze che forse non avevamo adesso ci sono tre settori che si stanno essenzialmente andando sempre più a unificare il primo è quello della mobilità delle auto e noi essendo parte del gruppo Stellantis su quello ci sentiamo abbastanza forti c'è il settore dell'energia e da lì la partnership la joint venture con NGPS che arriva da quel mondo e c'è tutta la parte invece delle telecomunicazioni e da qui questa partnership con Accenture che ci porta quelle competenze che ci servono per offrire un servizio a 360 gradi alle imprese ma anche ai privati grazie grazie Emanuele Pesando responsabile per la customer experience in free to move e-solutions praticamente c'è un job title lungo quanto un camion sì infatti io ho una pergamena con l'ambiente bravo immaginavo immaginavo allora quindi io ho comprato la macchina ho capito anche che ho dei vantaggi grazie all'app di Kiri con free to move solutions ho soluzioni per la mia mobilità però io ho sempre guidato e ho sempre fatto scuola guida perché io che ho fatto la scuola guida ho pagato in lire aggiungo non aggiungo altro con auto a benzina o a diesel Lorenzo Forneris segretario provinciale di UNASCA che è l'associazione che di fatto riunisce tutte le autoscuole sì diciamo che è l'associazione più rappresentativa a livello nazionale cosa state facendo voi adesso per cosa stiamo facendo scusami devo riprendere un attimo dallo shock perché ho sentito parlare di guida autonoma la 2020 mi è venuto mi stavo per pensionare licenziare come bravo bravo no però sembra banale però tutti quanti noi abbiamo fatto la scuola guida con le auto a benzina o a diesel sì assolutamente e tuttora ancora purtroppo si fa si fa la scuola guida con le auto a benzina o diesel iniziamo con qualcuno che beh questo è già un po' più di tempo con alimentazione ibrida o proprio con motori ibridi nel senso quindi iniziamo proprio con le panda o le 500 mild hybrid o micro ibride dipende dal punto di vista e sicuramente UNASCA con il centro studio di Cesare Ferrari grazie alla partnership con Stellanti adesso ho avuto una grossa opportunità di formazione perché il percorso ovviamente va a cascata nel senso si parte dai formatori quindi noi siamo i formatori dei formatori c'è un gruppo un team selezionato di istruttori che fa da formatore per gli altri istruttori e in questo momento siamo proprio in questa fase di aggiornamento dei nostri colleghi e pian piano stiamo anche cercando di inserire nel nostro parco auto veicoli che abbiano appunto o motori ibridi plug in o appunto totalmente elettrico è un percorso sicuramente che richiede un grosso impegno da parte nostra perché è un percorso che va anche deve ancora essere accettato un po' dal mercato esatto era questa la domanda proprio com'è la risposta delle persone beh la risposta delle persone ovviamente come per quello che riguarda i rapporti con i clienti dipende sempre anche quello è il budget delle persone per cui il vincolo di bilancio è sicuramente importante le autoscuole stanno investendo tanto in termini di formazione e di comunicazione per far capire che siamo un tassello fondamentale per raggiungere quella che è l'educazione di qualità visto che è il goal l'obiettivo a cui ci hai abbinato e cui ovviamente obiettivo numero 4 educazione paritaria e di qualità e sicuramente interpretiamo questo cerchiamo di rivolgerci a questo mercato per cercare di essere quel tassello che dia aiuto all'accessibilità nel senso che molti dei concetti che sono stati espressi dai partecipanti a questo talk noi ovviamente li dobbiamo riversare nei confronti dei nostri allievi dove però come è stato già detto i giovani sono in realtà l'ostacolo minore nel senso che il loro ostacolo maggiore è il fatto di non averla nella disponibilità economica devono convincere i genitori evidentemente però le resistenze mentali da questo punto di cambiamento di questa transizione arrivano più dagli adulti da questo punto di vista visto che è stato citato l'attività di famiglia diciamo il papà camionista stiamo approfittando per coinvolgere in questo tipo di esperienza in questo tipo di transizione mentale anche quelli che sono gli autisti professionali visto che noi comunque ogni 5 anni abbiamo a che fare con gli autotrasportatori che devono aggiornare le loro abilitazioni professionali poi magari qualche pillola anche per cui i conducenti meno bravi che si trovano a passare da noi per il recupero dei punti sempre in crescita poi con i T-RED torinesi per non parlare poi invece di chi magari quando rinnova la patente non si limita a fare la semplice visita medica ma vuole avere un aggiornamento vero e proprio visto che magari tu hai preso la patente in lire ci sono persone che hanno preso la patente col vecchio codice il nuovo codice del 92 giusto per intendersi e magari vogliono avere delle idee un pochino più chiare però ho fatto in tempo a prendere quella cartacea bravo motorizzazione o prefettura? va bene non andiamo nel dettaglio ma quindi ci dicevi che il giovane di fatto il cliente insomma non ha neanche tanto bisogno di essere istruito e l'istruttore? allora il giovane ha bisogno di essere istruito bisogna essere formato ma comunque accetta diciamo si accetta ed è anzi molto interessato infatti cade a fagiolo la partnership con Stellantis adesso si partirà chiaramente in gran cassa sul fatto che tutti gli allievi che conseguono la patente in un'autoscuola associata a un'ASCA potranno accedere a un'ottima scontistica su tutto il listino nonché le autoscuole visto che anche noi stiamo cercando di rinnovare il nostro parco pericolare assolutamente ma tra pochi giorni i ragazzi saranno ospiti nelle scuole guida esatto quindi sbrigatevi se dovete comprare la 500 elettrica subito subito comunque quindi ci stiamo attrezzando i giovani sono molto attenti gli istruttori nel momento in cui facciamo formazione gli istruttori sui nuovi veicoli ovviamente i soliti dubbi allora le perplessità sull'effettivo impatto ambientale ci sono i negazionisti dell'auto elettrica che dicono no ma l'auto elettrica in realtà inquina di più di una petroliera sarebbe anche inutile un po' triste se non ci fossero dall'altra parte i negazionisti anche con i vaccini Novavax vabbè benvenuti nel senso vai vai esatto per cui ci possono essere queste resistenze la resistenza sul fatto dell'autonomia cioè ormai qui ti parla di auto elettrica sembra sempre che tutte le mattine quando esci di casa vada a fare il pieno devo fare il pieno se no vado in ansia anche se devo andare solo al lavoro a 10 km di distanza per cui giustamente l'autonomia è più che sufficiente per le attività ordinarie per cui le perplessità sono queste ma c'è grande 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 interesse devo dire grande soddisfazione poi le auto elettriche offrono anche qualcosa di spesso offrono qualcosa di più anche dal punto di vista delle features e delle diciamo dei dispositivi di gestione del veicolo una guida decisamente più piacevole meno stressante e quindi viene apprezzata anche ovviamente dagli istruttori bisogna provarlo diciamo che si è diffidenti finché non si prova quando si prova ci sono quelli diffidenti che dicono no io l'auto elettrica no perché non sento il rombo del motore sì allora diciamo che c'è questo problema non sento il rombo del motore oppure gli altri non mi sentono il grosso problema è che l'auto elettrica non si sente sebbene per esempio la 500 presenti l'incipit della dolce vita l'ho studiato bene ormai canta ormai canta esatto come se tutti i pedoni che attraversano la strada senza guardare è perché hanno sentito che non arriva che non arriva nessuno giustamente questo è il ragionamento no qualche diffidenza c'è qui sicuramente ci può essere c'è qualche interrogativo su quello che possa essere il nostro ruolo ma in realtà quella è una visione vecchia dell'autoscuola dell'istruttore che quasi rimpiange la doppietta se non posso insegnare la doppietta per cambiare le marce mi scuso con i giovani che magari non sanno di cosa stia parlando io perdo il lavoro c'è già perplessità sul cambio automatico ecco questo tra l'altro l'argomento del cambio automatico è l'argomento diciamo fruciale che influisce sul mercato perché oggi chi consegue la patente guidando un'auto col cambio automatico ha una limitazione permanente per poter guidare solo veicoli col cambio automatico Unasca da questo punto di vista sia a livello nazionale sia a livello europeo e attenta tra l'altro a livello europeo siamo anche i referenti nazionali della carta della sicurezza stradale carta europea della sicurezza stradale quindi in termini di sviluppo formazione attenzione sul tema ci siamo e quindi si sta cercando di trovare un sistema per cui si riesca ad agevolare il questo tipo di transizione anche normativa cioè convincere la motorizzazione a modificare la norma il ministero a modificare la norma ovviamente integrando con della formazione per fare un esempio io nella mia autoscuola oggi ho sei auto col cambio manuale una col cambio automatico con una modifica normativa ma dai potrei invertire il rapporto e magari quelle sei auto potrebbero essere se non tutte elettriche tre ibride tre elettriche la questione del rombo del motore è stata fatta perché io per chi mi conosce vado in giro con lo scooter elettrico di solito e quando mi fermo al semaforo lo scooter elettrico proprio perché è elettrico quindi non fa rumore fa un titi titi e le persone ancora oggi luglio 2021 si fermano guardano ma è elettrico? come se fosse una novità insomma a parte questo piccolo inciso che non interessava però mi piaceva perché faceva colore ti chiederei in chiusura se ci puoi raccontare magari in concerto con Chiara anche il progetto Pole Position Allora il progetto Pole Position Chi vuole partire? nato comunque in pieno no non lockdown però comunque verso la fine verso la fine ma comunque dove c'erano ancora restrizioni per l'attività in presenza diciamo è stato un progetto molto interessante e molto utile perché ha permesso appunto a noi di poterci formare seguire un percorso di crescita e competenze di competenze su tutto quello che è il mondo elettrificato e ibrido perché poi noi lo diamo per scontato però già sulla differenza tra il mild hybrid o l'ibrido plug-in anche sul mild hybrid ci sarebbe da fare una discussione nel senso che come dicevate prima lo stile di guida tra l'altro qui è indispensabile nel nostro supporto perché lo stile di guida è trasmesso e diverso da quello che veniva fatto una volta e lì ci va anche l'aggiornamento di chi deve valutare che non siamo noi ma è sempre il ministero e comunque si è iniziato quindi con questi incontri in videoconferenza e con l'utilizzo anche della piattaforma di learning a disposizione Stellantis che è stata un'ottima un'ottima esperienza e poi si è concluso a maggio con per culminare a maggio con l'incontro in presenza e anche i test drive sulle auto in quell'occasione ci sono stati anche rappresentanti delle istituzioni quindi è stata anche l'opportunità di far vedere a chi deve poi coordinare quelli che valutano i patentandi quali sono gli strumenti che ci sono oggi non c'è più la doppietta scala scendi lasciamo perla cosa vi ha lasciato chiara questo progetto beh direi un'altra grande opportunità in termini di education e di formazione sulle nuove generazioni e anche opportunità di vendita ovviamente quindi come Motor Village abbiamo stilato appunto questa convenzione molto interessante per tutti i neopatentati e parenti di primo grado e ovviamente abbiamo arricchito una giornata all'e-village con un bell'incontro con le istituzioni con UNASCA e i colleghi di Stellantis beh direi che ora siamo stati estremamente chiari io ringrazio davvero tutti quanti voi ringrazio soprattutto Chiara per l'ospitalità e coloro che hanno parlato a questa tavola rotonda noi ci vedremo al prossimo raggio e soprattutto teniamo a mente che la mobilità sostenibile non è tanto il domani quanto è già l'oggi grazie a tutti